Piano vaccini, non sprecare e non ritardare alcuna dose. La comunicazione dell'assessore alla sanità Simone Bezzini nella seduta straordinaria del Consiglio regionale di martedì 23 febbraio. Le priorità del piano regionale seguono quelle definite a livello nazionale. Il modello organizzativo messo a punto deve necessariamente tener conto della specificità dei singoli ambiti territoriali, ma il principio di fondo della campagna vaccinale toscana risponde al principio non sprecare e non ritardare alcuna dose disponibile. Con queste parole l'assessore alla sanità Simone Bezzini è intervenuto nell'ambito della seduta straordinaria del Consiglio di martedì 23 febbraio. L'assessore ha indicato le linee attuative del piano che devono tener conto dell'offerta vaccinale, tre quelle disponibili, Pfizer, Moderna e AstraZeneca, dell'organizzazione e il funzionamento dei centri vaccinali nei diversi contesti, fino al monitoraggio della sicurezza e dell'efficacia della campagna. Si è poi parlato di una campagna multicanale per garantire la massima efficienza e volumi giornalieri, anche di 20-25 mila somministrazioni al giorno. Devo dire che è stata una seduta interessante perché ha avuto il vantaggio di una sollecitazione, di un confronto da parte di tutti, opposizioni, maggioranza, su una sfida che è la vera sfida contro la pandemia, perché oggi l'argine per in qualche modo interrompere quello che è la catena di contagi che negli ultimi giorni aumenta anche in Toscana è proprio alzare il muro dei vaccini. La Toscana è risultato anche dagli interventi, direttamente o indirettamente, ha una capacità organizzativa sul piano della vaccinazione che è fra le migliori in Italia. E consentitemi, oggi noi abbiamo una Ferrari che però viaggia come una 500, perché abbiamo una capacità vaccinale da parte dei nostri operatori, negli hub che abbiamo messo, nelle convenzioni costruite con i medici di base, nel rapporto instaurato con il volontariato, che potrebbe offrire 25 mila, 30 mila somministrazioni di vaccino il giorno. In realtà poi arriviamo a meno della metà perché manca la materia prima, i vaccini. Quindi anche dal dibattito in Consiglio è venuto fuori quello che io continuamente mi sento di dire al Governo nazionale. Vaccini, vaccini, vaccini. Ponetevi il problema di arrivare a delle dosi di vaccino che vadano oltre quelle che sono state finora contrattate dall'Unione Europea per creare le condizioni di una vaccinazione più diffusa e comunque la Toscana con il suo più di 90% riesce oggi a offrire un vaccino a 260 mila persone nella nostra regione. Sono orgoglioso di presiedere questa assemblea legislativa, di vivere in una regione come la Toscana, che meglio di altre è riuscita a fronteggiare questa situazione davvero difficile e che oggi, prima, in Italia, un 96% di somministrazioni, penso, di AstraZeneca. Noi stiamo facendo un lavoro enorme, organizzativamente importante. Penso che sia giusto spiegare ai cittadini che il nostro compito non è quello di produrre i vaccini, il nostro compito è di somministrare nella maniera più rapida e più efficace possibile tutti i vaccini che ci vengono consegnati. Noi oggi con questa comunicazione e con la risoluzione collegata chiediamo al Governo di darci più vaccini, di parlare con l'Europa con ancora più forza. Più vaccini avremo, più riusciremo a combattere questo terribile virus. Noi vogliamo far rialzare presto la testa alla nostra Toscana e per questo con forza facciamo questa richiesta sia al Governo sia all'Europa. Oggi ci arriveranno nel mese di marzo tantissime altre dosi, 250 mila di Pfizer, 100 mila di AstraZeneca, 50 mila di Moderna, ma sono ancora, come capite bene, 400 mila dosi, molto, molto meno delle esigenze che hanno i cittadini della Toscana. Mandiamo un messaggio a tutte le cittadine e a tutti i cittadini. Capiamo la voglia di correre, la corsa al vaccino, però ci sarà per tutti. Noi cercheremo di somministrarlo nel più breve tempo possibile e lo faremo partendo dalle categorie, come stiamo facendo fino ad ora, più fragili. Dalla comunicazione che oggi l'assessore ha fatto, mi pare sia evidenziato che i compiti fondamentali che una regione deve avere, deve svolgere rispetto al piano vaccinale sono stati svolti in maniera importante. Il primo è quello dell'organizzazione della campagna vaccinale e la Toscana ha organizzato due canali importanti, uno con gli hub e tutti i sotto, gli spoke organizzati con il sistema sanitario regionale che sono serviti per vaccinare il personale sanitario che ora stanno vaccinando le categorie che si sta vaccinando con AstraZeneca e abbiamo attivato per prima regione la rete dei medici di medicina generale che ricordo fra ottobre e novembre ha vaccinato 1.400.000 persone con il vaccino per anti-influenzale. Quindi abbiamo attivato una rete importante che può sostenere una quantità di vaccini importanti che noi speriamo nelle prossime settimane arriveranno. Un dato positivo in Toscana, il fatto che 260.000 persone sono già state vaccinate, c'è una grande risposta da parte degli operatori sanitari, ottima l'iniziativa nei confronti degli insegnanti, del personale scolastico. Eravamo stati noi a chiedere che il mondo della scuola potesse essere vaccinato per prima, allo stesso tempo una risposta importante dei medici di base che daranno risposta alle persone ultraottantenni e queste sono richieste che avevamo avanzato, così come volontari del 118, la protezione civile. Ora chiediamo ovviamente di andare oltre, vaccinare le persone disabili, i loro familiari, indipendentemente dal livello della disabilità, tenendo anche conto e attenzione massima al fatto del luogo dove debbano essere vaccinati tutti i malati cronici, malati oncologici. Queste persone che vivono in condizioni di forte fragilità devono essere inserite nelle agende delle vaccinazioni nei prossimi giorni. Poca gioia nell'urna chi non lascia eredità di affetti. Cioè abbiamo letto e sentito dall'assessore 180 pagine di cui la metà sono i bugiardini dei vaccini, altra buona parte è come si fa a mettere nella siringa la fiala realizzando il vaccino che deve essere ricostituito. Quindi sinceramente ci aspettavamo qualche cosa di più, sinceramente, anche qualche cosa parecchio di più. È stato contestato il fatto che sostanzialmente per noi è come se lui chiedesse che dal cielo gli arrivasse la manna. E' stato anche contestato il fatto che qualche altro presidente di regione in qualche modo se le va a cercare le cose. Ognuno di noi è artefice della propria vita e conseguentemente per i toscani credo che le cose debbano essere cercate, non aspettate, aspettato che venga dall'alto. Siamo assolutamente insoddisfatti, aspettavamo una relazione da parte dell'assessore dal 23 di dicembre quando a chiedergli un confronto con l'Aula non era stata l'opposizione, erano state addirittura le forze che sostengono la maggioranza. Dal 23 di dicembre per avere una comunicazione sui vaccini l'opposizione è stata costretta a ricorrere alla raccolta firme e a indire il consiglio straordinario. L'assessore Bezzini fino all'ultimo giorno, venerdì scorso, ci ha chiesto di avere pazienza sabato e domenica perché avrebbe passato il fine settimana a preparare la comunicazione da darci oggi in Aula. Ieri mattina ci ha dato un documento fatto da 189 pagine dove c'è scritto come si aprono i flaconi dei vaccini della Pfizer, i bugiardini dei vaccini, come si conserva in frigorifero. Bene, tutte notizie interessantissime, ma noi avremmo voluto sapere altro. Avremmo voluto sapere come mai in Regione Toscana sono stati fatti 250.000 vaccini quando ne servivano 280.000 solo per immunizzare la prima fascia. Avremmo voluto avere delle risposte dettagliate sul piano vaccinale, su come si proseguirà nel piano vaccinale, se ci sarà o meno la volontà della Regione Toscana di andare in autonomia alla gestione dei vaccini, se c'è la volontà di violare i brevetti delle multinazionali del vaccino che oggi non ci forniscono un numero sufficiente di dosi, se la Regione Toscana vorrà percorrere quella strada che altre Regioni hanno detto di fare, ovvero di riuscire a approvvigionarsi in maniera autonoma dei vaccini. Nessuna risposta? Siamo assolutamente delusi da quello che ci è stato detto, lo abbiamo detto sia al Presidente Gianni che all'assessore Bezzini. Questo clima da va tutto bene a noi non piace, non va niente bene. Sono stati vaccinati in Toscana soltanto 260.000 toscani su oltre 3.700.000 abitanti. Se andiamo di questo passo, i toscani saranno vaccinati fra oltre tre anni. La domanda è possiamo aspettare tre anni per essere tutti vaccinati? Assolutamente no. Ecco perché abbiamo chiesto un cambio di passo, ecco perché abbiamo chiesto all'assessore e al Presidente che battano i pugni sul tavolo. La responsabilità è di Roma perché non arrivano i vaccini, si facciano sentire. Potremmo arrivare al punto in cui, da partire dal Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi, i vaccini si devono fare. Vanno alle case farmaceutiche, fanno chiudere i ristoranti, fanno chiudere gli stabilimenti balneari, ci tengono in casa per tre mesi, fanno chiudere tutte le attività commerciali, dicano pure alle aziende farmaceutiche che stanno producendo i vaccini, ci dispiace, dateci il brevetto. Perché se non siete in grado di garantire le dosi necessarie per vaccinare i nostri cittadini in tempo utile, per fermare la pandemia sanitaria, per far riprendere quella che è la più grande crisi economica dal dopoguerra ad oggi, e allora quei brevetti devono diventare patrimonio dell'umanità. Abbiamo letto la comunicazione della Giunta, che ci è stata inviata ieri, una comunicazione molto articolata, però a nostro avviso rimangono senza risposte molte domande, che sono forse quelle che più interessano i cittadini e noi consiglieri regionali. Ossia quando verranno mandati gli altri operatori sanitari previsti dal bando del commissario Arcuri, quanti sono stati i volontari che si sono offerti per fare le vaccinazioni dai bandi che erano previsti per i primi di febbraio. Insomma, tante cose rimangono senza risposta, per cui a nostro parere la relazione manca degli aspetti fondamentali per quanto riguarda le liste di riserva, che non si capisce come funzioneranno, perché non è indicato da nessuna parte nella relazione. Queste sono alcune, solo alcune delle criticità che abbiamo trovato nella relazione. Abbiamo fatto presente, spero che nella replica l'assessore ci dia le risposte.